La Grecia è il reotto della Spagna La Grecia è il porto l'anno, tutti i soldi e il porto l'anno Quella mano invisibile che secondo Ada Smith autoregolamentava i mercati non è mai esistita Ma le persone ci credevano? Un bel gruppo di gonzi eh Potenza dei luoghi comuni, Beppo Mannaggia questi luogo comunisti Le nostre banche sono molto più grandi I 20 maggiori banche sono molto più grandi Se è troppo grande per fallire, è troppo grande per esistere Interesse privato si trasforma in pubblica virtù Una grande illusione direi E che c'entra i miei maiali adesso? Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna I pigs, i maiali d'Europa Le economie deboli o anche meno competitive E cosa è successo poi? Questa razza si è estinta? C'è che vuol dire che siamo in una situazione che Marx non aveva mai prevu E che Minsky non aveva mai prevu Anche credo che Keynes non aveva mai prevu Insomma, la crisi del 2008 è stato un grande fallimento per il mercato Si può dire questo o il fantasma di Adam Smith verrà tutte le notti a spettinarmi da qui al resto della mia vita? No, certo, è stato proprio così Stai tranquillo, il tuo ciuffo non è pericolo Scusa, ma veramente la gente pensava ci fosse il fallimento dello Stato? Eh, ero piuttosto piccola Ma si parlava sempre di debito, soprattutto pubblico Era come se il peccato originale fosse stato sostituito dal debito originale Pensa, che quando sono nata mi dicevano che avevo già accumulato un debito di 30.000 euro Voglio dire, 30.000 eco coin Eh, la nonna, eh, si era mangiata tutte le mele La maggior parte della nostra vita ormai la dedichiamo e la orientiamo Avendo in mente e avendo come obiettivo la realizzazione di risultati economici Consumiamo la maggior parte, come Seneca diceva del Previtate Vite Siamo vari di tutto, tranne la cosa più preziosa che abbiamo Che è il tempo che buttiamo a piene mani La maggior parte del nostro tempo è dedicato a problematiche che sono il tempo economico E Sombart, questa cosa l'aveva spiegata benissimo Perché dice che le organizzazioni sociali sono embedded col tema economico Quindi, le nostre sono organizzazioni socio-economiche Se mi prendi in giro ti faccio decrescere i capelli Ah, dai, il cutting no! Questo è un movimento tipico di una vecchia urocrate come te Becchia urocrate a me, ma brutto Ma guardate, ma dopo l'ultimo dei marcani doveva capitarmi l'ultimo dei bamboccioni Pensa a te Affare da detonatore alla crisi sarà un avvenimento imprevedibile e magari di poco conto Come il panico di Wall Street che precipitò la grande depressione Una coincidenza fortuita renderà manifesta la contraddizione strutturale Tra gli scopi dichiarati delle nostre istituzioni e i loro veri risultati Ciò che è già evidente per qualcuno salterà di colpo agli occhi della maggioranza L'organizzazione dell'intera economia in funzione dello star meglio è il principale ostacolo allo star bene Grazie a tutti!